Buonanotte dagli angeli. Sensibilità emotiva. Onorate e rispettate la vostra grande sensibilità poiché è un dono per tutti noi. Siete stati presi in giro per la vostra estrema sensibilità oppure questa caratteristica vi ha fatto sentire a disagio. Se è così questa carta è una rassicurazione da parte degli angeli che il vostro dono possiede qualità positive. Per esempio voi sapete subito se una persona appena conosciuta è degna di fiducia oppure no. Gli angeli stanno lavorando con voi affinché vi fidiate più spesso di queste sensazioni e non vi rimproveriate se in passato non avete ascoltato il vostro intuito. Siete persone tranquille per natura pertanto evitate i conflitti e altre energie sgradevoli. Chiedete agli angeli di farvi incontrare persone che amano la tranquillità come voi e di tenere lontane tutte le altre. Onorate la vostra sensibilità circondandovi di gentilezza nelle vostre relazioni, nelle attività che svolgete nella vita domestica e al lavoro. Le piante sono spesso gli strumenti prediletti degli angeli per favorire la purificazione dalle tossine fisiche ed emotive. Oggi mettete una pianta accanto al letto affinché questa notte la sua forza risanatrice possa purificare e trasformare qualsiasi energia abbiate assorbito. Mentre la pianta trasforma l'anidride carbonica tossica in anidride carbonica respirabile trasformerà anche l'energia dalla paura. Così dormirete sonni tranquilli e vi risveglierete rigenerati. Prendetevi cura della pianta, invocate le fate affinché vi aiutino in questo compito. Questo è il messaggio della buonanotte degli angeli.